Alla fiera della vanità femminile, i concorsi di bellezza d'oltreoceano per il 1938 si sono inaugurati con questa grande parata di belle ragazze, tra le quali i giudici, dopo accurato esame e ponderose discussioni, hanno presci una bionda diciottenne che potrà ora menar vanto del titolo di Miss Florida. Grazie per la visione!